ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su zero sivert quella che dovrebbe essere una versione finale finale tra modo di per modo di dire nel senso che siamo una 0.22 ma è quella che probabilmente uscirà in early access su steam avete presente escape from tarkov ecco questo è un tarkov like completamente offline in pixel grafica quello che faremo è andare a provare mia partita e provare e vi farò vedere quello che può offrire questo gioco allora noi ci troviamo all'inizio vabbè adesso non ce l'abbiamo ma in sintesi abbiamo la nostra base la nostra base iniziale dove possiamo andare a parlare prendere missioni insomma fare varie cose adesso in pena riesco a ok qua non posso passare ci sono tutte zone sbloccabili poi andando avanti mentre qui vedete abbiamo il bar dove possiamo andare a chiedere delle delle task primi passi dobbiamo uccidere ci pagheranno in rubli uccidere cinque banditi nella mappa foresta ho già questa quest e ci pagheranno con una ricompensa insomma qua abbiamo la possibilità di comprare merci spendendo soldi abbiamo 7500 rubli e vendere e acquistare questa invece la parte in cui potremo andare a costruire quindi praticamente qua abbiamo al momento solo questo tavolo con poche ricette di crafting ma possiamo andare anche prendendo questi materiali che recupereremo come succede anche su tarco nel campo di battaglia andare a costruire varie stanze espandere la nostra base la nostra facility e quindi avere dei vantaggi vari al momento vabbè usciamo e vi faccio vedere in sintesi in che cosa consiste il gioco il gioco io ve l'avevo già portato l'avevo portato insieme a un altro gioco italiano è un video veloce di tre minuti dove ve lo ve lo presentavo insomma siamo in un ambiente radioattivo non ci saranno solo nemici a cercare di ucciderci ma anche creature io al momento come potete vedere ho equipaggiato questo fucile che ho recuperato da una scorsa run un svd e ho anche questo che è un mosing naganto fucile da cecchino ma purtroppo senza senza mirino potrei andare all'interno e cercare se trovo qualcuno che mi vende magari delle dell'equipaggiamento per le armi adesso un secondo ve lo cerco qua possiamo riparare l'armatura e possiamo anche curarci però ci costa veramente troppo ho venduto un mirino che avevo in zaino 560 rubli ma al momento ok no possiamo dormire dormiamo un'oretta vediamo ok non siamo abbastanza stanchi infatti vedete che è in alto la barra dell'energia è ancora abbastanza alta va bene dai chi se ne frega non trovo nessuno ci penseremo andiamo questa è la zona iniziale dove si parla col capotreno e si sceglie dove andare a ci dà anche una tasca anche lui accettiamola tanto più allora voglio andarmene e andiamo in forest ok forest la mappa della foresta e il gioco è assolutamente cattivo ma cattivo 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 quanto si può ritrovare cattivo anche un escape from tarcom e volevo fare volevo fare il cecchino ma purtroppo credo che non lo potrò fare perché ho solo il mosing certo ma qualora avessi il mirino potrei usare diciamo appunto una sorta di reticolo per mirare a distanza e uccidere istantaneamente i miei nemici in questo caso non lo posso fare quindi vedete che posso mirare così e basta non mi compare diciamo cerchietto però vedete che ce n'è uno lì silenzio adesso io potrei caricare posso cambiare il fucile vedete ci mette un attimo però ho visto qualcuno lì eccolo lì sta bevendo acqua ok ok l'ho ucciso ricarico e lo luto vedete è tarco in allora dobbiamo fare attenzione alla pesantezza del nostro zaino perché caspita questo però più bello ma se vedi più bello allora prendo questo che anche il mirino prendo delle munizioni con la tab e con il raro c'ertero da sui scoprendo anche dell'acqua e se sono dei chiodi mi servono vedo qualcuno dirà un accendino un accendino questo cos'è potrei mangiare va bene abbiamo ucciso un tizio al momento dobbiamo aspettare che finisca di mangiare andiamo avanti poi c'è la mappa e poi ci sono anche che è sempre più o meno diversa e il cerchietto è il punto di estrazione quindi bisogna andare avanti cercare di capire col tasto j possiamo aprire queste cose dove ci mostra la mappa dove ci vengono mostrate le quest 40 scrap metal e uccidere cinque foresti e cinque foresti si cinque banditi ho ucciso un tizio non so se è un bandito non me lo conta queste sono le statistiche queste sono le abilità che salgono man mano andiamo avanti esattamente come succede in traco e questa è invece la disposizione della nostra base che possiamo andare a costruire e questo invece le relazioni con le varie fazioni all'interno del gioco comunque andiamo avanti c'è qualcosa lì c'è qualcosa lì c'è qualcosa lì sembra esserci qualcosa andiamo a vedere ci saranno anche zone radioattive quindi bisogna fare attenzione perché si inizia a sentire il contatore e c'è anche qualcosa lì che non so cosa sia ma vedete che quando gli individui escono dalla nostra visuale non li vediamo possiamo entrare all'interno vediamo cosa possiamo buttare non so cosa sia questo cosa qui comunque questo è un tubo ma smartphone se io lo scappo no lo prendo e poi lo scappo ah no eh lo devo fare a casa una chiavetta usb che sono sempre no che è cassa sembrava anche il terzo sapone questo questo e questo riprendo questo 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 ce la faccio sì non sforo ancora il il totale quello mi ha visto ma non ero sul mielino quindi vuol dire che non lo colpisco lo sono dei gol gol ok andiamo qua a vedere qua si può entrare ma nel dubbio io cambio il fucile perché secondo me da usare all'interno non è anche che qua non c'è niente c'è un banco da lavoro però che non possiamo usare vediamo cosa c'è di qua tenendo sempre d'occhio la zona cassetta una pentola dei cracker e fatemi mangiare dai di cracker ci mette un po a mangiare questo gioco non lo toglierò dal computer perché andrà sicuramente live prossimamente andrà live quasi sicuramente scrap metal lo voglio e siamo appesantiti quindi mollo la cosa dell'acqua screw not neanche uno smartphone e siamo un po pesantiti quindi no lo smartphone non lo posso mollare e sapete che non so cosa mollare davvero chips ci posso montare qualcosa no questi posso metterli subito qui ma non me li toglie comunque dal peso questo lo zaino pesa si porta 12 kg questo è l'antiproiettile sapete che non ho proprio idea di come fare perché se tolgo questo ci vado quasi vicino ma non posso mollare la pagnotta mangio questo non sono assetato non sono radiato posso trasportare un chilo in più perché sono pieno ok adesso posso ok io direi per questa prima randi può provare a spostarmi pian piano verso la zona di stazione ok mi curo anche i suoni il fatto che hanno ripreso tanto quello uso medici che sono fasciato e ben dato voglio vedere anche la quantità di di colpi che ho ricarica non è un gran fucile questo non ho trovato munizioni mannaggia devo trovarle ecco ci sono ci sono delle radiazioni qua credo sia un problema anche andare di qua a sto punto e dobbiamo aggiungere quella zona la eccola era nascosto lì dietro siamo ripartiti da qui abbiamo di nuovo il nostro equipaggiamento base credo adesso non so con che logica ci dia la roba c'è o perlomeno ce la faccia perdere però credo mantenga il nostro equipaggiamento base mentre invece quello che troviamo in più magari lo perdiamo non lo so non lo so quello devo ancora un pochino approfondirlo non so se il gioco uscirà però in early access o meno su steam uscirà adesso non c'è un embargo su questa versione di gioco quindi posso mostrarla anche prima dell'uscita e penso ve la mostrerò subito subito dopo aver fatto questo video lo pubblicherò forse il giorno dopo e ho letto lo tengo installato perché prima di sviluppo seconda cosa beh in live è una meraviglia non capisco dove sono sono qua ok allora l'estrazione è in fondo quindi andiamo giù andiamo destra intanto vediamo se riusciamo a lottare qualcosa e andarcene subito ma c'è un mega stabilimento da qua non riusciamo vivi sarebbe figo una coppa e di questo proprio infinito i colpi credo no il bello che la mappa cambia sempre quindi sempre comunque diversa vediamo eh però non ci voleva questo questo insedimento qui la prima partita che ho fatto ironia della sorte sono entrato allutato sono uscito adesso che sto registrando è totalmente diverso è una spiga incredibile ci mette un po caricare quello quello sì poi io non sono mai un sostenitore dei coppa però credo che su un gioco così difficile ci potrebbe anche stare per quanto mi dicevano che hanno aggiunto la coppa anche su offline di tac off quindi quindi di questo gioco non so dirvi purtroppo il prezzo ma guardate l'uscita lì in alto allora andiamo su subito e usciamo beh non guadagneremo esperienza quindi dobbiamo cercare qualcosa di rapido da fare qui buah che bambu che sono no ma è veramente bastardissimo sto gioco non sto guadagnando proprio la minima esperienza io non so se qua si possa no non si può andare sotto la ferrovia i rubri sono un po in realtà sì vabbè quello che ho fatto prima rientriamo qui e vediamo se c'è qualcosa che ci può vendere il tizio qui buy no trade vedete non vende niente ah no però aspettate questo vende tutto quindi 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 se io volessi mi vende questo coso qua che il mosing nagant usa il 7 62 come munizioni quindi io compro il 7 62 le compro e mi costa 800 e mi sta anche bene io vorrei comprare però eh no mirini non me ne da purtroppo non me ne da beh ha comprato un po di munizioni quindi adesso ne ho questi sono respect book cardio coffee una istantanea fotocamera istantanea backpack le maschere per ok vendeva tutto lui sin dall'inizio va bene allora dai facciamo un'ultima un'ultima prova toccata e fuga vediamo cosa succede aggiustamenti il primo ieri velocemente scegli con saggezza chi ingaggiare eh questo anche prima ha fatto una gran cavolata chissà se ma penso di sì ci saranno i silenziatori perché comunque ho fatto una mossa molto avventata e non ho osservato se c'era qualcuno sarebbe bello anche tipo un binocolino che zoom un pochino la zona mi da qualche dettaglio magari dietro gli alberi sarebbe bello o magari c'è già chi lo sa allora partiamo da qui l'uscita è lì quindi in questo caso a prova di idiota andiamo e proviamo a vedere se trovo qualcosa ma è solo foresta qua ci fosse un edificio di qua che possiamo provare ad andare a vedere vai carica no non è un edificio è un è un altopiano però aspetta c'è un camioncino zitto 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 è infetto qua mamma mia no non si può non si può ma è solo con il punto di uscita? eh guardi sì andiamo giù andiamo giù guardiamo velocemente cosa c'è qui sotto il terreno e prendiamo via anzi mi sposto già direttamente lungo la ferrovia anche se non è il massimo perché è una zona abbastanza scoperta mi metto tra gli alberi bisogna vedere anche quanto saranno sensibili i nemici alla nostra vista nel senso che se siamo effettivamente coperti in questa zona qui o no allora l'uscita è di là su di là quindi adesso noi scendiamo qua a filo della montagna e vediamo se trovo qualcosa c'è una casetta e un cinghiale tanti cinghiali aspettate che prendo la seconda arma e carico pure quella ah no non ho l'arma vabbè ragazzi non ho davvero parole vabbè allora l'idea di questo video è farvi vedere che sta per arrivare zero sievert quello che potrei definire un escape from tarkoff offline e in pixel grafica gioco bastardissimo ma molto carino e per dirvi anche che se siete interessati sul canale viola potrei farci anche delle live ora vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate lasciandomi un commento qua sotto e io vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao